No! Tocca un ballo! Magli c'è un ciocchiotto, non so, ma non tocca un ballo! Che fa poi? È in crisi nera! Un nascita una cacchiotto! No! No! Abbiamo protagonisti! Ci fanno un ballo! Aspetta, eh! Ora si può bere la niente! Allora, tocca un ballo! Aspetta, aspetta! Ecco! Sì, sì, 45 per cento! Sette tiri contro due! No, io non mi sono sconti! Non ho fatto la presenza! Aldo, hai fatto due tiri? Ma io ho tutto le zone del tempo! Guarda, ti sei con l'allenamento, Aldo! Ah, Robo, dai! Guarda, guarda! Ma niente! Ho visto il sportello del Garbondo! Ora tira da tutte le parti! Ma io tiro sempre da tutte le parti! No! Aldo, ma che spazio? C'è una di spazio? No! No! Prenda! Ma io te ti l'ha fatto a due! Vieni via! Deve essere zucchiata lì! Ma che ti l'ha fatto? No! Ma... No! Ahahah! Maldissimo! Ma la birra? No! Chi c'ha di puta? Tavolone! 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 Però hai visto? È più piattone! Ci ha creduto il mezzo secondo! Aldo! Ci sono troppo vicino! Oh, attraverso, un dominio vedete, questo è rosso, si, si, l'importante si, ti piglia uscire. E' impietoso il cartello lì, 3 a 1, uno è sputato nel braccio. Dai Aldo, è l'ultima speranza questa. Ah, però, bravo, bravo. Mi fa avviare, è un squadrone questo di roba. Lo vedi? 10 e 2. Tra. Guarda, guarda, mi fa avviare un miliardo. Guarda, lo vado a giocare prima di mangiare. Grande roba, l'independiente, senza fatica.